Direttore, oggi è stato il compimento di un percorso che però vede Hunter in continuo contatto con il Vaticano. Allora, noi siamo stati lieti di essere stati accolti oggi in Vaticano, nell'udienza, perché questi aspetti vanno a toccare una parte importante dei concetti che Hunter vuol portare verso i propri volontari, i concetti di etica e di spiritualità. Quindi non ci sono solo valori materiali, ma sono importanti e sono utili anche quelli che vanno a toccare le emozioni, la spiritualità di ogni singolo individuo, perché attraverso quegli aspetti, come diceva anche oggi giustamente Papa Francesco, si è convinti di essere sulla retta via. Quindi retta via significa lottare per un pianeta più pulito, educare le nuove generazioni ed avere un comportamento coerente rispetto a questi argomenti. Poi attraverso le energie rinnovabili è giusto anche che le persone possano sviluppare una loro propensione legata anche ad aspetti più personali. Però sicuri e convinti che educando i bambini si può veramente realizzare un mondo migliore.